salve a tutti mandami messeri benvenuti a una nuova puntata qui sul canale spero siete bene sia tutto a posto benvenuti nella seconda puntata della serie che nessuno ha richiesto ma che voi tanto aspettate dal titolo molto sui generis domande del car risposta di me trovate la prima puntata alla fine di questo video se ve la siete persi e sotto quel video appunto ho raccolto anche oggi una serie di domande che a cadenza diciamo b mensile quindi o quindicinale ogni due settimane io a cui io rispondo in tutta onestà può essere qualsiasi domanda comunque ritorneremo in merito alla questione più tardi a fine video che faccio il recap di tutto prendo computer e quindi mi vedrete anche un po più casper ma non fa niente ma prima ancora di iniziare con le domande con le domande perché ovviamente ogni frase qui troncata così come l'uso sensato della lingua italiana vi dico che cosa io abbia sugli occhi o la palette si solo la palette bronze no non è bronze ed action si mothership 5 mothership 5 di pat mcgrath poi sulle labbra abbiamo exorcism di kat von d la vecchia formulazione che fa schifo ma è un colore bellissimo però si stende in una maniera di si stende in maniera omogenea ma va via in maniera disomogenea e pertanto dopo aver mangiato l'ho ripassato con il color di mac rebel perfetto basta il silenzio che ci ha reso anche un poco più scomoda il proseguimento di questa puntata andiamo avanti andiamo avanti e no sembra che ci riporto vabbè oggi non trovo pace oggi è uno di quei giorni che no e un giorno no quindi passiamo con la prima domanda la prima domanda computer di sotto a me quindi vedete questo splendore effervescente elli 12184 che sembra un numero un numero che ha un senso non voglio sapere il senso mi sembro anche un po gennaro d'auria quando faccio stasera e no non dobbiamo perdere tempo allora ci fai vedere la tua collezione make up sì assieme ai miei capelli bianchi ve la farò vedere o interrompendo adesso il video e mettendovi un frame con tutto e appunto il poco di make up che ho oppure facendo un video mettendo foto vedrete comunque la vedrete non è estesa però è bella consistente poi mi chiede sempre elli i tuoi brand preferiti ne ho vari vari brand preferiti al momento dipende dalla tipologia perché ovviamente ogni singolo brand ha i suoi cavalli di battaglia e prodotti che fallano per esempio se mi devo affidare un fondotinta a parte il wettenwald che mi piace lo sapete però il quello che davvero mi fa sentire confidenza se la mia pelle fa schifo è sicuramente il make up forever l'ultra hd in stick poi mi piacciono tanto le palette di natasha denona mi piace appunto to face per le polveri del viso così come hourglass e becca ce ne sono varie ed eventuali però se dovessi scegliere per quel che concerne occhi to face per il better than sex per le palette occhi quelle di natasha denona per la base viso sicuramente make up forever quindi questi diciamo sono quelli che mi vengono proprio spontaneamente però di tutto e di più appunto nella mia schiera di make up spero ti è piaciuto la risposta andiamo avanti poi abbiamo brillant 85 full di cui non rivelerò il nome uno perché al momento non mi sovviene attenzione non vogliamo inlantare che che abbia una memoria straordinaria male mi segue da tantissimo anche sui tito che bello e mi chiede qual è il lavoro dei tuoi sogni e se potessi realizzare un top brand di make up come lo chiameresti e quale sarebbe il prodotto di lancio allora il mio lavoro il lavoro dei miei sogni è lavorare appunto in campo cosmetico però il dietro alle quinte quindi tutto quello che è il lavoro d'ufficio la parte creativa sia del prodotto in collaborazione con un make up artist perché non essendo make up artist ma solo appunto appassionata di brand e dell'aspetto più legato al business mi piacerebbe stare nella parte creativa ad esempio del brainstorming ovvero della creazione prodotto e creazione di una storia però lo farei sicuramente con un make up artist questo e appunto tutte le varie campagne di lancio eccetera un poco come faceva il creatore il fondatore di in la masca assieme ad alex box che era la mente creativa grandiosa quindi come se potessi realizzare un brand di make up sarebbe quella la falsa riga che seguirei il concept che seguirei la masca secondo me è il brand del mio cuore in termini di idee di innovazione al tempo e come come lo chiamerei non so però sicuramente sceglierei una sola parola che abbia un significato e una parola breve e di facile pronuncia e il prodotto di lancio il prodotto di lancio e quindi uso anche questa serie per condividere con voi dei miei punti di vista sul make up che tante volte non si vincono e questo è un punto che ho sentito in tanti creatori di brand ad esempio l'ultima che mi soviene è Anastasia Suare se non mi sbaglio lei fa di cognome comunque la fondatrice di Anastasia Beverly Hills che tra l'altro ho visto anche dal vivo e bella donna, bella femmina Anastasia, sor Anastasia era appunto quello di essere bravi e specifici con il primo prodotto essere eccellenti in un prodotto in particolare e poi via via aumentare la ricerca e specializzarsi in vari ambiti questo secondo me è molto interessante come appunto approccio per farsi conoscere per farsi il nome appunto per avere la fiducia delle persone che poi compreranno i tuoi prodotti quindi quale sarebbe il prodotto di lancio dato che è una appunto delle mie passioni le palette occhi sarebbe comunque una palette occhi versatile sulla falsa riga delle Lorac Pro per darvi un'idea come l'avrei pensata quindi niente di estremamente originale però punterei più che altro sulla qualità delle polveri più che nella varietà del colore qualcosa che si possa appunto spendere bene a livello di qualità più che a livello di idea ti è piaciuta la risposta? non lo so, me lo dirai allora andiamo avanti di Cristina non faccio il cognome ma Cristina tu sai che sei tu perché appunto per la privacy per la privacy allora se potessi fare la collaborazione con un brand beauty allora se potessi fare una collaborazione con un brand beauty oppure crearne uno tuo quale di... comunque ce la posso fare? con quale tipologia di prodotto inizieresti? ho risposto già a questa domanda con la domanda precedente ma se dovessi collaborare con un brand ed è... ho pensato tanto prima a Cina mentre mangiavo la zuppa di pomodoro pensavo con quale brand io collaborerei? forse io collaborerei proprio con Makeup Forever nonostante non sia un brand di cui ho tantissimo tantissimi prodotti però mi piace tanto l'idea che loro abbiano una scuola di make up che ci sono dei prodotti appunto che sono qualitativamente buoni e su cui fare affidamento quindi forse non sarebbe un successo commerciale ma sarei sicura della qualità dei prodotti quindi a sorpresa Makeup Forever forever allora spero che ti abbia piaciuto la risposta andiamo avanti allora qual è? allora di Sereines ecco la torre beh sì perché mostravo la torre dei rossetti adesso vi mostro la collezione Makeup dici che hai più di 50 palette occhi è vero durante questo lockdown ho avuto modo di contarle sì sono 50-56 palette occhi qual è la preferita di sempre? ciao e alla prossima e questa è anche l'ultima domanda ho perso un po' di luce allora ho valutato e ve ne propongo tre ne proporrei due ma mie tre e adesso capirete il perché ho fatto la rima questo non significa che siano le mie preferite o forse dovevo rispondere in altro modo però più che la palette rispondo in questo modo alla domanda senza che mi ingardo più che palette preferita a livello affettivo vi mostro queste tre palette che ricomprerei nel momento in cui e forse se volete il video fatemi sapere faremo un video tag se vi piace l'idea ovvero se io dovessi perdere tutto il mio make up quale palette ricomprerei per prima se volete possiamo fare un video così se vi va se vi alletta se vi piace un video con tutti i prodotti make up che io ricomprerei se sparisse la mia collezione make up e vi faccio vedere allora allora rimanendo i high hand parlando della qualità di prodotti vi mostro la lila palette di Natasha Denona perché? perché questa è tra le mie preferite perché è una palette seppure io non utilizzi tantissimo ma se io potessi essere potessi essere traslitterata in colore io sarei questa palette se dovessi sì sarei proprio questa palette e in più mi piace perché appunto abbiamo colori di transizione caldi e freddi abbiamo i viola abbiamo i colori che sono abbastanza decisi e che fanno risaltare l'iride del mio occhio e abbiamo anche colori per creare appunto un look da tutti i giorni quindi bello però questo proprio dice a pointe dal massimo perché è quasi trasparente è un topper riserve la base e tutto poi le altre due palette e vi spiego perché ho queste due palette di Morphe le uniche due che ho le uniche due che penso mai comprerò e che mi piacciono mi piacciono entrambi abbiamo la 39A che si chiama Dare to Create che è questo palettone la sceglierei perché appunto sarebbe forse proprio questa o quella di Jacqueline Hill che vi faccio vedere ve le posso mettere anche side by side senza appunto farle cadere perché sto distruggendo make up a Yosa allora la Dare to Create ha anche tutta una serie di colori di transizione abbiamo i verdi abbiamo i rossi abbiamo i marroni quindi abbiamo tutto è molto molto completa ma ingombrante invece la Jacqueline Hill secondo me mi lantano che abbiano cambiato la formula questa è la proprio paletta originale che ho comprato quando sono arrivata qui in Inghilterra tre anni fa e mi ci trova abbastanza bene l'ho abbastanza utilizzata però ovviamente non c'è vedete i colori scavati ha molti più toni caldi che risaltano appunto sul mio occhio però abbiamo anche una striscia di colori freddi quindi queste sarebbero le palette e questo è tutto spero che il video non sia durato un'eternità farò un video molto breve un clip molto breve dove vi faccio vedere appunto la mia collezione make up non più di un minuto perché non c'è niente da vedere ammirerete anche il disordine della mia stanza e quindi per altre domande se lo volete type scrivetele qui nei commenti e ci vedremo fra 15 giorni con altre domande del ca e con le mie risposte di me e qualora vogliate se il video è piaciuto piacete condividete fate quello che volete quello che il vostro cuore con la Q di quadro desidera e mi trovate sempre per altri viaggi esoterici nella mente di una beauty addict che cazzo ho detto non lo so un bacio forte alla prossima ciao 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 ragazzi come promesso questo è il breve clip sulla mia collezione make up quindi andremo molto spediti perché non sarà un di video dedicato appunto quindi abbiamo make up che ho scassato durante questa quarantena e che non so se buttare o utilizzare poi prodotti limbo che non so che farmene se tenere o lasciare andare quindi stanno qui così prodotti viso blush e bronzer alcuni dei blush e bronzer palette occhi ingombranti riconoscete la blue sugar le due dimorfi che vi ho fatto vedere la fs festival e tutta una serie di altre poi abbiamo le palette qui in questo mobile app che sono esteticamente belle da vedere quindi Kat Von D le Pat Mcgrat che c'ho Nars ispirate a Man Ray e poi Urban Decay per Basquiat Limited Edition Limited Edition dei Benefit per Natale e una palette viso poi abbiamo qui questa cassettiera che ha nel reparto superiore matite labbra matite occhi alcune tinte di Kat Von D che non so dove acchio mettere matitoni occhi di vari brand ma soprattutto chi che pupa varie matite occhi e tool altri tool che io utilizzo assieme a mascara micellare fissatori ogni mattina matite occhi che voglio finire nella cassettiera abbiamo al primo cassetto tutti quelli che sono non sono riuscita a vedere fino in fondo però qua ci sono gli illuminanti in polvere in palette di illuminanti e cipre qua è già aperto perché non l'avrei potuta aprire con una sola mano tutte le mie palette occhi le altre palette occhi non andiamo nello specifico è un cassetto pesantissimo e qui invece in queste due borse di amica ho prodotti backup e nuovo make up poi andando qui abbiamo questa cassettiera in acrilico divisa per cassetti ogni cassetto ha la sua tematica e anche questa è stata riorganizzata abbiamo prodotti della Byte Beauty labbra lip stick e tutti i pigmenti e ci sono pigmenti in glitter anche nella parte dietro che non vedete palette mini palette occhi queste sono altre non rientrano appunto nelle 50 soprattutto nelle Uda Beauty poi sono quad qua invece abbiamo in questi due cassetti è la stessa cosa sono ombretti mono in polvere o in crema mentre parlo però ve li faccio vedere questi sono addirittura divisi per colore che ho qui nelle cassettiere poi ho altri blush altri prodotti visi questi sono solo blush invece qui sono in restante parte dei prodotti viso quindi soprattutto terre ciprie e qualche illuminante mini come vedete qui poi qua ho lo specchio vicino allo specchio pennelli sporchi pennelli puliti alcuni dei miei prodotti labbra la parte superiore oddio cadeva ho questo cestino dove ho tutti i prodotti viso correttore eccetera per la base le spugnette zozze questo è il progetto 12 pen progetto 12 pen che sapete dei prodotti che voglio finire qua invece abbiamo palette che sto testando o riprendendo quindi c'è la metropolis la gechiane la balman sai la norvina altri prodotti io soccorta quindi sto sulla monta dei piedi altri prodotti viso eccetera eccetera le mie vitamine la candela e la torre dei rossetti questo è tutto spero quindi ragazze che il clip di questi pochi minuti vi sia piaciuto sono andata molto in velocità perché il video di per sé altrimenti dura un'eternità scusate se al primo saluto avevo lo stesso sedente adesso non c'ero più e quindi io vi risaluto un bacio alla prossima e non vi dimenticate di scrivere domande qui sotto nella sezione commenti alla prossima ciao ciao ciao